Palazzo Camagliani Albergotti, sede dell'archivio di Stato, Palazzo Pretorio, casa oggi invece della biblioteca a città di Arezzo ed infine il Palazzo delle Poste. Palazzi storici al servizio dei cittadini che apriranno le loro porte in occasione delle giornate fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del paese. Il punto di ritrovo è sotto le loggie Vasari dove accoglieremo i visitatori spiegando loro all'inizio il percorso per chi lo vuole sapere, spiegando cosa è il fai, qual è la sua missione e dopodiché il gruppo, noi abbiamo pensato non più di 15 persone perché poi c'è il problema di ascoltare, di vedere e quindi partendo dalla biblioteca poi l'archivio di Stato e poi saranno accompagnati al Palazzo delle Poste. Il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, la domenica mattina dalle 10 alle 12 e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 17. 750 i luoghi che saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli apprendisti ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Sono un'occasione splendida per come sono organizzate, per il fatto che i ciceroni saranno i ragazzi del liceo, la mission dell'educazione è un altro dei nostri pallini, diciamo così. In occasione delle giornate FAI di primavera, infine a Lucignano, ben due le inaugurazioni ed aperture, quella della Fortezza Medicia e del Chiostro di San Francesco. Devo dire che l'emozione è anche visibile e papabile di tutti noi, a partire anche dall'amministrazione, dalla sindaca, che tanto ci siamo spesi per portare a tutti dei luoghi che abbiamo visto per troppi anni un po' chiusi. Adesso ci sono state le possibilità di portarli alla luce e questa è una soddisfazione palpabile.